No, non è la prima volta che sono al Wake Up Call, è la seconda volta. Pensando un po' al genere di evento che potesse essere, pensavo di trovare tanta energia e motivazione per continuare la routine, la quotidianità e dopo il Wake Up Call ho cercato di mantenere tutto quello immagazzinato in quei tre giorni nella quotidianità in modo da riuscire a stare motivata e seguire i consigli di Alfio. Sì, faccio l'università e la prospettiva è un po' quella di entrare nel mondo dell'immobiliare e di conseguenza dopo il Wake Up Call ho iniziato ad avere una visione diversa, anche banalmente come dice Alfio non servono i soldi per iniziare a fare soldi. Con lo studio che faccio all'università, messo insieme agli insegnamenti di Alfio, comunque questo tipo di energia viene fuori qualcosa di diverso, qualcosa di secondo me non comune. I corsi riguardanti all'immobiliare sto prendendo parte a quelli principalmente. Quello che a me colpisce tanto di Alfio è la sincerità. L'ho assolutissimamente consigliato, sono già riuscita a portare qualcuno con me quest'anno e lo consiglio assolutamente a chiunque possa riuscire a prenderne parte. Grazie a tutti.